E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo di 30 anni, ritenuto responsabile della brutale aggressione alla moglie, che si è consumata poco dopo le 8 a Pontestella, frazione del comune di Serravalle Pistoiese. L'uomo e la donna, lei, 28enne, albanesi, genitori di tre bambini piccoli, vivono in un appartamento situato sopra il capannone di una ditta di ingrosso di elettrodomestici. Sembra che al mattino sia scoppiato tra i due un violento litigio, degenerato poi in una vera e propria aggressione. Il marito ha preso un'ascia che teneva in casa e ha rincorso la donna tentando di colpirla. Nel disperato tentativo di fuggire, la donna ha aperto la finestra che si affaccia sul tetto terrazza del capannone ed è scappata correndo lungo tutto il tetto, finché non è arrivata alla fine. Il marito l'ha raggiunta e a quel punto sembra che l'abbia presa con forza e gettata di sotto. I vicini, che hanno sentito le urla, hanno chiamato subito i carabinieri e il 118. A soccorrere la donna, la misericordia di Casalguidi, con l'automedica di Pistoia, che l'hanno intubata e portata poi di urgenza a Careggi. Il marito ha cercato di scappare nei campi vicini, ma i carabinieri di Casalguidi e Bottegone lo hanno raggiunto e fermato. Sul posto è arrivata anche la polizia municipale e gli assistenti sociali. I bambini verranno dati in affidamento perché la coppia ha i familiari in Albania. La donna lavorava in una pizzeria vicino casa, l'uomo in un vivaio. Non risultano in famiglia episodi di maltrattamenti. La lite sembra essere scoppiata per motivi di gelosia.